e quindi mi hanno detto di chiedere di Sara e di Dario, però Sara vengo da te, perché ci serve il microfono comunque. Ciao. Io lavoro in autelier e grazie al lavoro mi sento padrona della mia vita, capito? Qual è la parte che ti piace di più? La parte che ti piace di più è attaccare i bollini sui cartellini a seconda dei marchi. E come sono stati questi tre mesi, quattro mesi, diciamo, in negozio? Hai scoperto qualcosa su di te che non sapevi? Qualcosa che... La parola rella. Non sapevo inizio quella fosse la rella. In effetti è una parola che non si usa molto spesso. È vero, è vero.